Valentina, tieni, ti ho comprato l'uovo di Pasqua Allora ti piace? Oh mamma mia Ma non sei contenta? Ed è me contro te, hai visto? Ma mi piacevano, ma adesso sono cresciuta, mamma dai Ma cosa dici? Ti sono sempre piaciuti i me contro te Cioè, mi potevi prendere le Terramborgini o Ceraferrani, cioè Va bene, guarda, non sei mai contenta, non ti comprerò più un uovo di Pasqua, veramente, guarda Ok, mangerò questo Bene sorpresse, ok, mi piace